Buonasera, Electric Dream su Prime Video, ricorda un po' la serie di fantascienza a puntate, vi ne ho parlato, vi ricordate, Black Mirror, ecco, solo che non sono all'altezza, ci sono solo due episodi belli, anche qua sono tanti piccoli episodi, due carini carini, il resto non è che siano un gran che, l'idea è buona, speriamo che vadano avanti.